Aggiornamento del 9 febbraio 2022 Giovedì, in una conferenza stampa, alti funzionari dell'FBI hanno fornito ragguagli sul ruolo del Bureau come principale agenzia governativa per l'esame forense del pallone cinese ad alta quota identificato e abbattuto il 5 febbraio dalle forze armate statunitensi a largo della costa della Carolina del Sud. La Divisione Tecnologia Operativa e la Divisione Laboratorio stanno lavorando a stretto contatto con esperti in materia del Dipartimento della Difesa, incluso il Servizio Investigativo Criminale Navale, e altre agenzie governative. Inoltre, il personale degli uffici sul campo di Washington, Columbia, Charlotte e Norfolk dell'FBI ha dispiegato personale, inclusi agenti addestrati da ERT e USERT, per fornire assistenza con la logistica del recupero e l'analisi dei detriti. Michael Paul, vice direttore della Divisione Operativa e Tecnologica OTD, ed Eric Pokorak, vice direttore della Divisione Laboratori, hanno affermato che è troppo presto per determinare l'intento e le capacità del pallone e dovranno essere svolte altre indagini più approfondite. Pokorak ha detto che gran parte delle prove rimane sott'acqua e che l'FBI sta coordinando ulteriori ricerche con la Marina degli Stati Uniti e la Guardia Costiera. Le squadre di sommozzatori dell'FBI e della Marina degli Stati Uniti stanno lavorando insieme. «Eravamo sul posto domenica tardi, 5 febbraio, e le prime prove ricevute sono state trasportate a Quantico e ricevute lunedì 6 febbraio», ha spiegato. Pokorak ha descritto l'area di ricerca come una «scena su larga scala», e ha affermato che le preoccupazioni meteorologiche nei prossimi giorni potrebbero avere un impatto sulla raccolta delle prove e sul trasporto degli oggetti recuperati. Una volta ricevute le prove presso il laboratorio dell'FBI a Quantico, in Virginia, un team di esperti esegue un processo di decontaminazione, ha continuato Pokorak. In termini semplici, questo significa rimuovere l'acqua salata dalle prove stesse. Sciacquando e lavando quanto recuperato in modo che possa essere ulteriormente lavorato. Le prove recuperate finora si sono limitate ai reperti di superficie, tra cui il pallone, o il baldacchino stesso, alcuni cavi, una piccola quantità di componenti elettronici, ma solo una piccola parte del carico utile. «Non abbiamo visto il carico utile in cui ci aspettiamo di vedere la parte fondamentale dell'elettronica», ha affermato Paul. OTTD ha schierato specialisti per assistere con lo screening e per valutare in modo specifico i componenti elettronici che potrebbero essere recuperati durante l'operazione. Ha detto che questa indagine segna la prima volta che il laboratorio dell'FBI e l'OTD hanno analizzato una «mongolfiera» di questa natura, e all'elaborazione della scena corrispondente. Paul ha affermato che non è stato rilevato alcun «materiale energetico» offensivo, ma ha sottolineato che gran parte delle prove deve ancora essere recuperata. Alla domanda sul produttore del pallone o se il suo design fosse basato su informazioni rubate, Paul ha detto che l'FBI non è nella posizione «a questo punto per avere quell'informazione». Ha detto che sia il laboratorio dell'FBI che l'OTD stanno lavorando per determinare la fonte dei componenti del pallone. Inoltre, al momento l'FBI non dispone di informazioni o prove fisiche che contraddicano le precedenti dichiarazioni rilasciate da altre agenzie governative. La divisione laboratorio guida la raccolta, il trasporto e i successivi esami forensi del materiale probatorio. È composto da esperti in materia, inclusi team di immersione di risposta alle prove altamente qualificati e team di risposta alle prove pericolose, che contribuiscono alla missione di raccogliere, analizzare e condividere informazioni scientifiche e tecniche tempestive all'interno dell'FBI e con altre agenzie governative e di polizia. L'OTD è la provenienza dell'FBI per la tecnologia applicata che consente e migliora le indagini. Il personale OTD è stato schierato per assistere con gli sforzi di recupero e le valutazioni iniziali delle prove tecnologiche. Aggiornamento dell'11 febbraio 2023. I funzionari della difesa affermano che gli Stati Uniti hanno raccolto importanti indizi per le risposte ad alcune degli interrogativi posti nei giorni scorsi, mentre il pallone stava transitando negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, utilizzando alcune capacità tecniche fornite dalla National Security Agency tra le altre agenzie, hanno già raccolto alcune informazioni in tempo reale sui tipi di segnali emessi dal pallone mentre viaggiava, secondo un funzionario della difesa. L'aver lasciato volare il pallone per qualche giorno darà presto i suoi frutti, ha detto Van Erck. Ma i funzionari vogliono essere in grado di esaminare l'hardware del pallone per saperne di più sulle sue precise capacità. Ora che il pallone è nelle nostre mani, possiamo esaminare la tecnologia, possiamo ricostruire la catena di approvvigionamento, scoprire chi ha contribuito a costruirlo, quali componenti erano importanti per esso, ha affermato il rappresentante Jimmy Emess del Connecticut, il massimo esperto di nomina democratica nel Comitato di Intelligence della Camera. Ovviamente puoi dire le sue funzioni specifiche. C'è Intelligence di altissimo valore in quei rottami. Gli Stati Uniti cercheranno anche di saperne di più sulle priorità di raccolta di informazioni della Cina negli Stati Uniti. Non è chiaro quanto la comunità dell'Intelligence sarà in grado di apprendere su quali informazioni il pallone ha effettivamente raccolto, o stava cercando di raccogliere, e probabilmente la raccolta dei dati dipenderà da quanto è rimasta danneggiata la sottostruttura del pallone a causa della caduta per 60.000 piedi fino all'impatto con l'oceano. La più grande domanda senza risposta, dicono i funzionari, rimane lo scopo della Cina. La Cina continua a sostenere che il mezzo fosse un pallone meteorologico andato alla deriva e che il suo percorso sopra gli Stati Uniti sia stato un incidente. I funzionari hanno riconosciuto che questo tipo di pallone ha solo capacità di governo limitate ed è stato guidato in gran parte dalla corrente a getto. Ma diversi funzionari della difesa e altre fonti informate sull'Intelligence affermano che la spiegazione cinese non è credibile e hanno descritto il percorso del pallone come intenzionale. La fonte, che ha familiarità con l'operazione dell'FBI, ha anche notato che la comunità dell'Intelligence sarà interessata a sapere se l'equipaggiamento del pallone cinese ha qualche somiglianza tecnica con la tecnologia costruita dalla comunità dell'Intelligence e dai militari statunitensi, poiché il governo cinese è stato a lungo determinato nel rubare americani segreti della difesa. Il pallone non costituirebbe però un pericolo per la sicurezza nazionale, in fondo è pur sempre un pallone aerostatico, non un velivolo stealth. Fonte FBI ed Stati Uniti Nevi